benissimo direi bene ragazzi benvenuti alla twill giornata di prove ovviamente no non ovviamente piove ho corso una volta la twill con la pioggia è abbastanza difficile lui sta montando le gomme da fango almeno ci stiamo provando e niente iniziamo con le prove via giro turistico intorno al forte siamo partiti ps2 abbiamo scelto di partire dalla 2 che c'era trasferimento pedalato meno ci si è scaldati un pò partenza subito in salita bello soft il terreno stretto my friend e poi fa schifo all'interno fa niente non dà molta sicurezza e sto terreno belle belle staccate ci sono finito speciale niente di che tornantino dritto e tornantino ah vinto io stage 1 è già più divertente questo non scorre un cazzo ma è divertente dove curva questa terreno paura chiude un po' questa lungo non so neanche quanto guadagna perché tanto in questa curva ci entri bene poi tanto c'è una curva subito secca così non è che devi portare fuori della velocità che paura ma si può andare su alti capo alto alto riproviamo dai vuoi provarlo a fare esterna io interna l'ultima e ti stavo prendendo dentro se non frenavo l'uscita è buona ho dovuto fermarmi per non prenderti questa nel 2016 ero caduto due volte per farlo riproviamo anche questa stai tutto a destra porco due che rischio mi si è sganciato il piede a poco prima di entrare nel buco mi stavo ammazzando se mi fanno paura questi punti di finisce ps1 pronto pronto per le tre lungo va bene con la linea lì perfetta madonna non riesco a fermarmi ho problemi nelle staccate io non riesco a fermarmi è imbarcata ma è carina questa da qua così a memoria dal 2015 iniziava la parte ripida non ancora forse bastardo con le radici da qua iniziava la parte ripida porco due una curva in salita me lo ricordavo molto più difficile sei anni fa la centrifuga non sei più asciutto dopo la centrifuga partenza in curva non l'ho mai provato che botta che gli ho dato al circo che salto ragazzi ah comunque me l'ho dimenticato siamo partiti per la prova speciale 4 che sarà anche pro stage si ripeterà due volte tre volte in totale però adesso sembra anche la più divertente qua c'è un lungo traverso da pedalare giuduro oh signor tutto bene orco due io aspetta che mi fermo riguardo perché sono stato su alto proprio a sinistra lì quel ceppo tagliato ma poi mi sono incartato da qua salti lì e sei dritto per mi ricordo già che c'era un passaggio tecnico gente calda oh 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 prove speciali finite prove prove delle prove speciali finite stasera le riguardiamo un po al pc riposiamo e domani gara non dovrebbe piovere quindi terreno dai raccontiamo un po anche come sono le speciali speciali bene o male divertenti e domani si punta al top 80 per me lui top 20 è obbligatorio 20 25 quindi restate connessi eccoci qua giornata di gara c'è il sole dovrebbe forse venire a piovere per l'ultima speciale quindi saranno condizioni un po strane che condizioneranno la gara e adesso stiamo salendo per la prima in seggio via poi c'è un piccolo tratto da pedalare quindi non c'è molto riscaldamento siamo con la 1 non c'è un po' allora ps 1 finita per tutti sono torno alla settantesima posizione adesso ps 2 allora c'è stata un incompressione con la gopro prima di partire non ho registrato la speciale però dai questa molto meglio mi sono messo a buttare la prima per bloccarmi devo ancora scendere una venti di persone per adesso sono ventesimo quindi bene dai fiducioso adesso si arriva per le tre la fresa ciao 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 No benissimo direi questa era bella mi piaceva non c'era da pedalare quindi per le mie condizioni odierne va molto meglio di fatti sono andato bene dai adesso c'è l'ultimo piccolo aggiornamento mancano 10 minuti la partenza e sembra che inizia piove non 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 Grazie a tutti. Allora, gara finita. Dopo la tre ero tipo 51esimo, quindi sarà finito quella posizione lì. Adesso ci godiamo un po' di jolly passages nella pietraia, dove ho giollato anche io. Allora, gara alla Tuil finita. Ha finito anche di piovere. Mi ero dimenticato di fare la conclusione. Io ho fatto 51esimo, lui poco più avanti, non è andato bene. Io invece si sono andato bene. Ci vediamo per la prossima gara di sabato e domenica. Ciao.